bentornati il video di oggi sarà molto interessante infatti stiamo per andare a vedere tre modi diversi di tagliare delle forme con illustrator vedete che qui abbiamo tre forme di diversi colori per il primo metodo andiamo a selezionare lo strumento segmento linea andiamo a creare una linea tenendo premuto shift così è perfettamente verticale vado a dargli un punto di traccia così la vediamo ma funziona anche se non ha nessuna traccia l'importante è che esista un'altra linea vado a posizionarla a metà della nostra forma in realtà questo metodo funzionerebbe ovunque noi l'andassimo ad applicare però giusto per ordine la vado a mettere nel centro ora quello che faccio è seleziono prima la forma poi tengo premuto shift e seleziono anche la linea vado dunque a selezionare lo strumento crea forme e vedete che nel momento in cui mi posiziono su una metà o sull'altra questa viene evidenziata il mio triangolo qui nei miei livelli è segnato come una forma unica ma nel momento in cui io lo vado a cliccare ecco che è stato diviso in due parti adesso io posso andare a selezionare una delle due parti e separarla dall'altra ecco che la mia forma è stata tagliata esattamente in corrispondenza della linea è possibile farlo anche in presenza di più di una linea infatti se io vado a fare copia e incolla in cima dopodiché vado a ruotarla tenendo fisso l'asse a questo punto che cosa faccio seleziono nuovamente la forma poi seleziono le linee vado a prendere lo strumento crea forme e ora posso cliccare in tutti i punti intorno a quest'asse nel momento in cui vado a cliccare ecco che questo pezzettino questo qui che ho cliccato è stato separato dal resto mentre gli altri sono rimasti uniti ora se io tornassi a selezionare e andassi a riprendere tutti i pezzi nuovamente potrei decidere di separare anche questo ed eccolo qui a questo punto si possono cancellare le linee che avevamo creato perché la forma è stata separata con successo ora un secondo metodo per ottenere sostanzialmente la stessa cosa consiste nell'utilizzare i comandi di elaborazione tracciati ora nel momento in cui io vado a posizionare una linea o anche più di una linea in sovrapposizione a una forma nel momento in cui vado a selezionare tutti gli oggetti e vado a premere questo tasto scomponi vediamo che è stato creato un gruppo all'interno del quale io ho le mie forme tagliate esattamente in corrispondenza delle linee che avevo posizionato e notiamo che in questo caso le linee sono già scomparse personalmente privilegio questo metodo nella maggior parte delle volte ne esiste un altro però almeno ne esiste un altro tra quelli che ho deciso di mostrarvi oggi selezioniamo l'ultima forma nel pannello degli strumenti andiamo a prendere il cutter ovvero il coltello questo strumento fa esattamente quello che il suo nome suggerisce ovvero io posso tracciare una riga che è una curva di bezier quindi mi aiuta è assolutamente morbida non è non è frastagliata e quindi risulta automaticamente gradevole e vediamo che ho tagliato perfettamente la mia forma con un effetto assolutamente gradevole è possibile utilizzare questo strumento anche per realizzare linee spezzate infatti è sufficiente realizzarle a mano illustrator capisce che voglio fare degli angoli in questo caso e non delle curve quindi mi aiuta ulteriormente ed ecco qua tre modi per tagliare gli oggetti in illustrator grazie a tutti